salve ragazzi in questo video andremo a costruire un attrezzo per accogliere fichi e piccola frutta quello che ci occorre essenzialmente la parte superiore di una bottiglia quindi la parte più grande prima che cominci il collo stretto anche se la tagliate un po seghettata è meglio così facendo dei movimenti circolari intorno al gambo del frutto riuscirete a raccoglierlo meglio poi ovviamente avremo bisogno di un manico questo caso è una canna di bambù di circa 2 metri di lunghezza per raccogliere anche i frutti più alti oppure può andar bene anche un bastone basta che sia della misura più o meno corretta per inserire la nostra bottiglia in questo caso abbiamo utilizzato del nastro per portarlo a diametro corretto quindi ci basterà inserire con un po di decisione così può andare altro po basterebbe anche così se vogliamo dargli un pelo più di sicurezza utilizziamo del comune nastro isolante se trovo come sistemarlo ecco che si veda nel comune nastro isolante da elettricista e andiamo a stringere il tutto se trovo il capo del nastro ok facciamo un paio di giri giusto per prenderlo sicuro il nostro attrezzo è ultimato ci basterà solamente prendere e andare a raccogliere i fichi oppure la frutta che ci serve alla prossima